Non ci sono i presupposti per arrivare allo scioglimento del Consiglio Comunale di Eboli per infiltrazioni malavitose. Lo dice chiaramente il nuovo commissario prefettizio Antonio De Jesu, oggi al suo primo lavoro nel centro della Piana del Sele. De Jesu, la cui nomina è stata accompagnata da una vasta eco mediatica ed anche da clamore legato proprio al suo prestigioso profilo, membro per ben due volte della Commissione Antimafia Nazionale, oltre che vice capo della Polizia, proprio alla luce della sua esperienza pregressa si sente di assicurare che Eboli non rientra in questa casistica. Oggi il suo obiettivo dichiarato è traghettare il prima possibile il Comune verso nuove elezioni, ma soprattutto tutelare la salute pubblica. Nell'agenda del prefetto De Jesu il primo incontro è stato dedicato al vice sindaco che ha fatto le funzioni di primo cittadino Luca Sgroia dopo l'arresto ai domiciliari per Massimo Cariello, accusato di aver pilotato concorsi pubblici e di missionario. Cosgroia De Jesu dice di aver avuto un confronto sereno. Bilancio preventivo da approvare, proroga della chiusura delle scuole, sono invece le priorità operative che De Jesu annuncia. Poi le elaborazioni mediatiche, nel mio caso, soffrono un po' del mio profilo professionale. Ma assolutamente, come ho detto, qui non ci sono supereroi né super poliziotte che devono amministrare. Io sono un funzionario dello Stato che dopo 47 anni di servizio è stato chiamato con orgoglio e con un punto di onore a gestire l'amministrazione ordinaria del comune di Eboli, che è una città deliziosa, e traghettarlo fino alle prossime elezioni comunali che, si presume, saranno in primavera. Altre osservazioni o valutazioni di carattere di vestito non ci sono. Non sono i presupposti, non è stata adottata nessuna procedura per altro genere come infiltrazione comunale. Io sono chiamato, come funzionario dello Stato, a esercitare una funzione e traghettare la macchina comunale fino alle prossime elezioni perché la comunità ebolitana ha il diritto, i cittadini hanno il diritto di essere amministrati da rappresentanti eletti democraticamente. Questa mattina tra i primi impegni c'è stato l'incontro con il sindaco facente funzioni, Lucas Groia. Molto cordiale, molto fattivo. Abbiamo discusso di alcuni punti, provvedimenti urgenti come l'approvazione del consuntivo, che è importante, il bilancio consuntivo. Poi con il segretario generale, che sarà il mio diretto collaboratore su tante cose, ho avuto modo di apprezzarne la grande professionalità, il grande senso etico. Insieme a lei, insieme ai capi area, affronteremo le singole problematiche, le approfondiremo e adotteremo senza nessun condizionamento di natura diversa i provvedimenti che saranno necessari adottare perché il Comune possa camminare sui suoi piedi. Senza voler anticipare i contenuti dell'ordinanza, è chiaro però che c'è urgenza di arrivare a decidere sulla riapertura delle scuole con la scadenza dei provvedimenti presi da sgroia. Qual è il suo orientamento rispetto a questo argomento? In questo momento deve prevalere la tutela della salute pubblica. Siamo alla vigilia di, diciamo, tra virgolette, vacanze natalizie o feste natalizie. Ritengo che adottare un provvedimento per dogo, ma per pochi giorni, non sia una misura oggi, soprattutto con la speranza che con i vaccini possiamo uscire da questo tunnel. Definito un prefetto d'acciaio, De Jesu per il quale non esistono supereroi, non ha invece mancato di esprimere delle considerazioni più personali, la gioia di essere ad Ebolil e la protezione della statua di San Francesco, che lo accompagnerà qui in questo percorso anche dopo essere stata in questura a Salerno. Un messaggio che si sente di inviare ai cittadini di Ebolil in questo momento? Sono orgoglioso di essere qui ad Ebolil. Io sono stato quest'ora a Salerno e sono venuto varie volte qui ad Ebolil. È una città deliziosa, devo dire, ordinata, pulita ed è una comunità sana, operosa. Il mio compito, il mio dovere, il mio stile professionale mi porterà a gestirla con il rispetto di tutti. Io ascolterò tutti e farò le mie valutazioni alla luce della mia, ahimè, 47 anni esperienza di uomo dello Stato. Non ci sono condizionamenti, non avrò garbo, cordialità con tutti, anche con rappresentanti politici, perché la politica fa parte della comunità, ma poi valuterò con grande autonomia di valutazione. Un'ultima cosa, se ricordo bene, in questura a Salerno aveva un portafortuna, l'ha portato anche qua qualcosa di scaramanti? No, io ho una Stato, un mezzo busto di San Francesco che mi accompagna da 25 anni. Fu rinvenuto, era stato rubato in una chiesa, io ne ebbi la custodia, anche la curia me l'ha data, diciamo, non è un portafortuna, è una presenza positiva che mi ha accompagnato in 25 anni di carriera a cui sono molto affezionato e guardando anche quella statua ti ispita sempre a valori di alto profilo. Sono affezionato, la considero una presenza positiva che mi ha accompagnato in questi lunghi anni e mi auguro che continui a esercitare una funzione protettrice nei miei confronti.